Ricominciamo col Castello Magico, l'abbiamo interrotto a causa del Covid, ripartiamo, due giorni di magia, di festa, di maghi che gireranno per il Castello di Tavoglia, grandi spettacoli, iniziamo in entrambi i giorni alle ore 18 con la Scuola di Magia per bambini, alla fine verrà rilasciata anche una certificazione ai bambini che hanno partecipato al corso, dopodiché ci saranno tutte le esibizioni ogni sera dei maghi itineranti ai tavoli, il sabato abbiamo il Gran Galà della Magia in collaborazione con il Festival della Magia di San Marino, quindi maghi a livello internazionale, bravissimi, avremo lo spettacolo dei rapaci magici, quindi ci sarà poi anche tutta una descrizione su come conoscere meglio i rapaci, poi ci sarà lo spettacolo, mentre la domenica sera il Clou sarà lo spettacolo con Andrea Fratellini che proviene da Italia Got Talent dove ha vinto nel 2020. Abbiamo lo spettacolo del fuoco con la corte malatestiana di Gradara, tutte le seri saranno stand gastronomici dalle 18, quindi saranno operativi dalle 18, poi ci saranno i giri col cavallo sulle mura del castello, con il Pony per i bambini più piccoli, ci sarà la Periflower in collaborazione con la Proloco Fogliense e abbiamo laboratori didattici per bambini con la biblioteca comunale di Pian del Bruscolo, quindi ci sono tante cose, tutte belle, quindi inviterei di non mancare a questo appuntamento che ormai è diventato storico a tavuglio dopo quello delle moto di settembre.